E adesso le notizie sul traffico e la viabilità. Su tutte le strade traffico intenso verso le grandi città. Sull'autostrada Intel, all'uscita di Rosenheim, sono segnalati circa 5 chilometri di coda. Tra Bayern e Monaco traffico lento. Gli automobilisti provenienti dalla valle di Schleswig sono consigliati di non rimettersi nell'autostrada Bayern, ma di proseguire fino a Holzkirchen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Horst, da dove sei saltato fu? Maledetto porco, schifoso, migliacco. Horst, che diavolo stai dicendo? Ho visto quei miei occhi, cerca di calmare. Ecco perché ieri eri così incerto nel dirmi che cosa avresti fatto oggi. E perché Ellen è venuto improvvisamente in mente che doveva andare a trovare sua zia. Stavate dicendomi un sacco di bugie. Sì, hai ragione Horst, avevamo deciso di parlartene subito, ma poi non ne abbiamo avuto il coraggio, mi devi credere. È stata una cosa improvvisa. Ellen e io non ci abbiamo messo malizia. Non volevamo. È penoso anche per noi, credi? Sì, perché ti vogliamo bene, capisci? Tu lo sapevi che Ellen era la mia ragazza. Sì, ragionevole, cerca di capire. Mi avete tradito, si è tatuati gli occhi, gli occhi. Non l'abbiamo fatto con cattiveria. Calmati, su. Vieni. Su. Siedi. Avevamo deciso di parlartene oggi. Stamattina. Mi devi credere. Ma tu invece, tu ci sgomentavi, portandoci ogni volta fuori strada. Ellen si era allontanata da te già da tempo. Io ero convinto che tu lo sapessi. E che anche tu ormai ti fossi stancato di lei. Sembravate due strane. E quando vi parlavate, era per dirvi cose sgradevoli. Non eravate più neanche amici. Dici questo solo per discorparti. È colpa tua, l'hai messa tu contro di me. Sei stato tu. Tu. Che cosa hai fatto, Horst? Mario. Ti prego, aiutami. Mario, non volevo farlo. Credimi, te lo giuro. Horst, sto male. Ero fuori di me, non capivo più neanche. Lo so. Ora portami a vita qui. Sì, dobbiamo fare qualcosa. Ti porto da un medico. No, da un medico no. È troppo rischioso. Staccami adesso, Mario. Portami subito a casa mia. Non devi credermi, Mario. Ti prego. Ho passato dei momenti terribili. Ero disperato. Sono stato ad aspettarvi tutto il giorno. E quando siete tornati... ...non portarmi dal medico. Forse non è tanto grave. Portami a casa, ti prego. At the woman who brought you up well She ain't your mother How do you cope With a thing like that I'm down I wanna hear me fall Toto subito. Portami. Portami. I'm down I wanna see me fallin' Papà. Eccomi. Sono appena arrivato. Aiutami, papà. Ti prego. Cos'è successo? Vieni subito con me. Ho ferito Mario con un cacciavite. È molto grave. Con un cacciavite? Ma che diavolo dici? È qui fuori. Sta sanguinando. Bisogna chiamare un medico. Ho già suonato dal dottor Wolfram ma non risponde nessuno. Cose rapazze. È molto grave? Sì. Ma com'è successo? Come? 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 Mario. Mario. Presto, papà. Facciamo qualcosa. Il suo polso non batte più. È morto. Lo hai, lo hai ammazzato. Su, portiamolo in garage e spegni quella maledetta radio. Doチ, Edge,icks åp. Puoi. Allora. È morto. Su, portiamolo in grapevino. Su, portiamolo in caracl to índi qui. Garz gobiernolee Dr. E così Non mi ero sbagliato Non c'è più niente da fare, niente Povero ragazzo Ma come hai potuto? E smettila di piangere, dimmi com'è successo Abbiamo litigato, era andato via con Helen e sono rimasti insieme fino a tardi Ma come? E per questo tu lo hai? Quando è stato? Un quarto d'ora fa Dove, dove? Vicino a casa di lei, sono rimasto lì ad aspettarli per tutta la sera Raccontami quello che è successo Io ho visto che si stavano baciando Ma da dove li hai visti? Dalla mia macchina Non c'era nessun altro? No Non ti ha visto nessuno? No, no E poi che cosa è successo? Helen è entrata in casa e mentre lui stava andandosi ho superato la sua macchina e l'ho bloccato Continua, continua Si erano abbracciati, si erano baciati Tu, tu lo sai che ho provato in quel momento Ho capito che mi avevano sganciato per andare a fare l'amore Ost, lo hai colpito? Con il cacciavite? Si Da dove lo avevi preso? Dalla sua macchina Ah, dalla sua macchina già Lo hai preso solo perché era lì? Si Non c'è stata quindi premeditazione Non avevi intenzione di ammazzarlo, vero? O ne avevi già l'intenzione? No È stata una reazione improvvisa dunque Tu eri completamente fuori di te Dobbiamo consultarci con un legale Non possiamo fare il minimo errore Altrimenti ti danno l'ergastolo Quanto tempo hai aspettato davanti a quella casa? Due ore, presto a poco Non potrebbe averti visto qualcuno mentre eri lì? No, te l'ho detto E lui non ha gridato? No Mi ha solo detto Da dove salti fuori? Se non ti ha visto nessuno si potrebbe anche tentare di negare tutto O vuoi andare in galera per sette, otto anni E saresti finito per tutta la vita Prima di tutto dobbiamo portarlo via di qui Sai quali locali frequentava? Sarebbe bene che lo trovassero davanti a uno di quei locali frequentati da stranieri Dove ogni tanto vengono alle mani Il Pinocchio Dove si trova? Nella Markstrasse Ci andava molto spesso? Non molto spesso, ma ci andava Lo devono trovare lì davanti C'è molto movimento? Fino al mattino Ce lo porto io La macchina tua dov'è? È ancora là Sta ancora davanti a quella casa? Non proprio, ha circa 200 metri Non può rimanere lì La vado a prendere Tu non muoverti adesso Vattene in casa e aspettami Dammi le chiavi della macchina Sono nel cruscotto Cerca di aprire bene le orecchie Il tuo futuro adesso dipende soltanto da ogni passo che faremo Guarda se c'è fuori qualcuno Puoi andare, non c'è nessuno Spegni la luce e fammi uscire Grazie a tutti Vado, questa volta ho deciso che vado Ma perché non me l'hai detto tu Di non poterle più Dentro, a quel mezzo sorriso un po' spento Ho scoperto i difetti che hai Ma come avrò potuto amarti mai Giuro che vado via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che rapidità, hai spinto a tavoletta? Direi di no Ho ricevuto la chiamata alle 4 Qualche chilometro prima dell'uscita di Augsburg Sono quasi le 5 con la strada libera E con Volker poi com'è andata a finire? Quel ragazzo ha la testa molto dura Il confronto purtroppo non ha dato risultati Abbiamo dovuto cambiare metodo E così dopo un paio d'ore Finalmente ha cantato Allora Andiamo un po' a vedere È uno straniero? Sì, abbiamo tutti i dati Mario Mafaldi, italiano, meccanico Sappiamo dove abita e dove lavora Arma da fuoco? Coltello, secondo il dottor Richter È in carattere con questo ambiente Avrei dovuto immaginarlo La macchina è del morto? Sì Buongiorno signor Coman Buongiorno Che locale squallico Dunque Supponiamo che la lite Si sia svolta laggiù Lui è ferito Si trascina alla sua macchina E si siede dentro Ma non al posto di guida Appena ferito dunque Sarebbe uscito dal locale Ha avuto quella coltellata Non si regge quasi in piedi E vuole andarsene via E siede a destra invece che al posto di guida E c'è la chiave infilata nel cruscotto Non ti sembra strano? Un momento Do un'occhiata al sedile di guida È spostato all'indietro fino all'ultimo scatto, vedi? Dunque ci si è seduto uno più alto Quello che ha lasciato attaccata la chiave Così è più logico Potete portare via il cadavere Diamo un'occhiata al locale, Harry Una tazza di caffè molto forte, per favore Va bene Qualcuno conosce il morto che è là fuori? Non le possono rispondere Sono tutti stranieri Sono qui da poco tempo Risponda lei allora È il proprietario? No Semplicemente il gestore Ha visto il morto lì fuori? Sono stato uno dei primi a vederlo C'era un gran trambusto Sono uscito subito L'ho guardato bene in faccia Non mi sembra che abbia mai frequentato questo locale Deve essere uno che passava da queste parti per caso Da noi non era successo niente Nessuna lite Nessuna rissa Proprio niente Era questo che volevate sapere, no? Questo caffè è disgustoso Sì, era questo È stata una notte molto tranquilla Non è sempre così? Ma qualche volta no A volte ci scappa anche qualche coltellata, vero? Sono teste un po' calde E usano portare in tasca quell'affare che adoperano per tagliare il pane, dicono Ehm... Quel tale l'hanno fatto fuori a coltellata? Sì Sì, ma qui non è successo niente Assolutamente Come va il lavoro? Abbiamo finito Al volante e al cambio non ci sono impronte Probabilmente le hanno cancellate La macchina la portiamo via Arrivederci Arrivederci Io passo da casa Mi rado, mi lavo E mi cambio d'abito Poi andremo a dare uno sguardo all'officina Dove lavorava la vittima Forse lo rivedo Pensi che mi richiamerà? Ciao, Orste Ciao Ho una gran paura Ehi! Non mi dici niente E che cosa dovrei dirti? Ciao Non so, sei ancora arrabbiato Per che cosa? Per ieri Che è successo ieri? Avrai saputo certamente che sono uscita con Mario Con Mario? Tu? Non dovevi andare da tua zia? Non ti ha ancora parlato Ma chi? Mario Avrebbe dovuto parlarti stamattina Non ti ha neanche telefonato? No Sei uscita con Mario, hai detto Come? E perché? Abbiamo fatto una gita in montagna Chissà perché non ti ha parlato, non capisco Ma cosa dovrebbe dirmi? Abbiamo scoperto che stiamo bene insieme Questo ti deve dire La colpa non è sua però La cosa l'ho provocata io E che mi importa? Tu puoi fare quello che vuoi Lo so da me che posso farlo Ma lui non ti voleva ingannare Perché ti vuole bene Beh, ora devo entrare in classe Non riesco proprio a convincermi che Mario sia morto Già, purtroppo è così Incredibile Mi ero meravigliato molto non vedendolo venire al lavoro Il suo amico mi ha detto che non era rientrato ieri sera Abitano insieme Il suo amico è qui? Sì, sta lavorando laggiù, sul ponte Enrico? Enrico? Sì? Mario è morto Questi signori sono della polizia Ma ho capito bene Morto Com'è possibile? Un incidente con l'auto? Tornando a casa? No, non è stato un incidente È stato ucciso Ammazzato? Ma è impossibile Chi può? È così Lo abbiamo trovato nella sua macchina davanti al Pinocchio Conosce quel posto? Sì, lo conosco Eravate amici voi due? Sì, abitavamo insieme Lei come si chiama? Enrico Cuoni Vogliamo dare uno sguardo in casa Il signor Cuoni può accompagnarci? Naturalmente Cambiati e accompagnali Subito Dovrà anche identificare il morto Sì, sì, capisco Era il più bravo dei miei operai Io non riesco a immaginare come sia accaduto Chi può averlo ammazzato? Era tranquillissimo Non aveva nemici Abitate in tre qui, vero? Sì Il terzo è andato in vacanza Non tornerà neanche molto presto Dovrà fare il servizio militare Anche lui è italiano? Sì, sì, anche lui Dov'è il letto di Mario? Dormiva lì Il suo armadio? È quello Lei a che ora è tornato ieri sera? Verso le undici Anzi, proprio alle undici Mario non era rincasato Di solito rientrava prima di me Io però non ci ho fatto caso Perché a volte capitava che restasse a dormire in casa di un suo amico Un ragazzo molto in gamba Come si chiama quest'amico? Wigman Horst Wigman Questo è lui con una compagna di scuola Wigman Che parla? La polizia criminale? Noi vorremmo sapere se lei conosce un certo Mario Maffaldi Maffaldi, sì Lo conosce? Sì, lo conosco È un amico di mio figlio No, ieri non è stato qui Mio figlio? Ah sì, è a scuola È ancora studente Quale scuola? Sì, l'istituto Humboldt Ma la prego Mi dica che cosa vuole da mio figlio? Come? Oh santo cielo No, no Ieri non si sono visti Lo escludo Lo affermo perché gli ho anche chiesto come mai Mario non si era fatto vivo Di solito viene ogni domenica E lui mi ha risposto che non lo sapeva E dove lo hanno ammazzato? Che cosa orrenda Sì, proprio una cosa orrenda La ringrazio signor Wigman L'autopsia non la faranno che nel pomeriggio Il giovane Wigman frequenta la scuola Humboldt Ah, la stessa che frequenta la ragazza Andiamoci Forse La polizia ha già telefonato Sanno che tu eri suo amico E poi hanno saputo altro Io non ho questa impressione Volevano sapere se Mario ieri è venuto da noi Io ho detto che non lo abbiamo visto durante tutto il giorno Ma suppongo che ora verranno qui E questo che significa? Che vogliono parlarti, che c'è di strano Parlarmi? Non c'è niente di strano in questo, non devi preoccuparti Io non ce la faccio, non ce la faccio Tu dovrai dire loro che io sono stato qui da te E che ero sconvolto per la terribile fine che ha fatto il tuo amico Così potrai giustificare anche il tuo stato d'animo E non dovrai preoccuparti di mascherarlo Perché è comprensibile dopo tutto Hai già parlato con Helen stamattina? Sì, a scuola, per pochi secondi Mi ha chiesto se sapevo che... Se sapevi cosa? Che erano andati insieme a fare una gita in montagna Mario doveva telefonarmi stamattina per dirmelo E tu che cosa hai risposto? Che non l'avevo visto o ne sentito Wigman, devi andare subito in parlatorio Non farli aspettare, corri È impossibile, non può essere vero Ieri siamo stati fuori insieme, siamo tornati tardi Quando mi ha accompagnato a casa erano già le dieci, di più anzi E poi è andato subito a dormire Non può essere lui, c'è sicuramente un equivoco Non può che esserci un equivoco Mi dispiace Buongiorno, sono Horst Wigman Noi siamo della polizia criminale Mario è morto E lui? Venga avanti Qui è già morto? Sì, sono state scattate stamattina poco dopo le sei Lei sapeva già che Mario è morto Mio padre è venuto qui nell'intervallo e me l'ha detto Aveva visto Mario ieri sera? No, era andato via assieme a lei Sono andati a fare una gita, l'ho saputo stamattina Noi siamo andati a sciare in montagna Siamo partiti al mattino con la sua macchina E siamo rientrati tardissimo Quando più o meno? Alle dieci credo Lui mi ha accompagnato a casa e ci siamo salutati quasi subito Non aveva intenzione di andare ancora in giro Dov'è questo posto? Dov'è la sua macchina? Il locale si chiama Pinocchio L'ho mai sentito nominare lei? Sì, qualche volta da lui Sì, ma è impossibile che sia andato là dopo avermi lasciata Perché è impossibile? Sarebbe stato assurdo No, lui ha detto io me ne vado a casa E sono sicura che non mi mentiva Dillo tu, andava mai in locali del genere? No, penso anch'io di no Una volta forse, ma ora non più Perché ora non più? Perché aveva conosciuto noi Andava là quando era solo e non sapeva che fare Per incontrare i suoi compatrioti Da quando ha conosciuto voi due non ci è più andato? No, non ci è più andato Per quello che so io E per quello che diceva Dov'è conosciuto Mario e in quale occasione? Quando ha riparato la mia macchina Ci siamo conosciuti in officina Gli era molto amico? Sì Era il mio migliore amico Quindi voi avete passato le domeniche sempre insieme Lei, Helen e Mario Sì Ieri no però No È stata colpa mia Avevo detto a Mario che desideravo rimanere sola con lui E lei che cosa ha fatto? Sono stato a casa A casa anche la sera? Non sono uscito neanche un momento Tutta la domenica a casa da solo? No, assieme a mio padre Allora, com'è andata? Bene, abbastanza bene Non hanno avuto sospetti? Credo proprio di no Ti hanno domandato dove hai passato la serata? Sì Ho risposto che sono rimasto in casa tutta la sera con te Potevo dirlo? Sì, sì Andiamo, sbrigati E ti hanno anche domandato se io mi sono mosso da casa? No Questo sarà un punto debole Ieri sono andato da tua madre perché voleva di nuovo altri soldi Se dovessero interrogare anche lei potrebbe smentire la tua dichiarazione Bisogna che vada a parlarla Non deve dire che sono andato da lei Non sarà così facile, ne sono sicuro Non è mai stata granché come moglie Speriamo che come madre sia meglio Ciao Buongiorno, Ilda Che c'è? Che fai tu qui? È di lui che dobbiamo parlare? Sì, di lui, siediti Vuoi bere qualcosa? No, no, non ho molto tempo Sono stata invitata a colazione Allora la cosa riguarda lui? Sì, riguarda nostro figlio E va bene Cinque minuti Non credo che bastino cinque minuti Il ragazzo Ieri notte Ha ucciso un suo amico Che hai detto? Che scherzi sono questi? Non scherzo Dico sul serio In un impeto di gelosia Ha ammazzato un suo amico Ha preso un cacciavite E glielo ha piantato nel petto Sei disposta ora A concederci più di cinque minuti? Prendi la pelliccia di tua madre Come è accaduto? Vuoi bere qualcosa di forte? Sì, grazie Mi porti un cognac, signora Schultz? Subito Grazie, signora Schultz Di niente Mamma Ci sono testimoni? No La polizia lo ha interrogato E gli ha chiesto dove ha passato la serata Lui ha risposto di essere stato tutto il giorno a casa Assieme a me Ma... Non è vero? Non ho saputo suggerirgli niente di meglio Ma tu eri da me Ti rendi conto della cosa? Sì È falsa testimonianza È vero Ma attento di risparmiare a mio figlio molti anni di prigione Questa deposizione l'hai già fatta? No, non ancora Possono interrogare anche me? Altrimenti perché credi che ti avrei invitata qui Che cosa significa? Che pretendi da me? Devi sostenere che ieri sera si è venuta a trovarci E che siamo rimasti tutti a casa Così avrà due testimoni Due testimoni Due testimoni E se lo scopriranno? Ah, com'è possibile? Ho portato via di qui la macchina con il morto L'ho messa davanti ad un locale Dove accade sempre qualcosa Per la polizia sarà un caso come tanti altri A noi faranno al massimo delle domande di routine Ma le risposte dovranno essere più che convincenti Dimmi se posso contare su di te Lo farai per tuo figlio? Ma certo, sì, lo farò Però non lo fai volentieri, vero? Come puoi farmi una domanda simile? Trovarsi all'improvviso di fronte a un fatto così terribile Ti sembra niente? Un omicidio per gelosia E l'ho detto sempre Se una ragazza ti tradisce Non farne mai una tragedia Lasciala pure e andare via Come ho fatto io con te? Non c'è nessuna differenza Allora Che cosa dovrò dire? Che sei venuto a casa dal tuo ex marito Perché volevi stare un po' insieme a tuo figlio Come tuo preciso diritto Così sarà chiarissimo che Orste è stato a casa tutta la domenica Tu pretendi troppo da me, Richard Ci riuscirai pensando a tuo figlio Qui vi siete salutati E lui ha detto di voler andare subito a casa Ha detto così E così voleva fare Sta arrivando mio padre Helen, come mai non sei a scuola? Papà, questi signori sono della polizia criminale Buongiorno Buongiorno È successa una disgrazia, papà Che cosa? Mario, ieri notte è stato ammazzato Vogliamo entrare in casa? Grazie Io non riesco a crederci Un giovane così corretto Così sensibile Erano inseparabili tutti e tre Helen era tanto felice ieri sera Quando è tornata a casa Mi scusino Ma prendo soltanto ora Che mia figlia ha passato la domenica In compagnia di Mario Come mai Orste non è venuto con voi? Perché ho voluto star sola con Mario Non volevo che Orste fosse sempre di mezzo Pensavo che tu e Orste foste molto amici Sì, certo Ma Ora è diverso Allora vi dirò qualcosa che può essere importante Ieri sera, quando sono rincasato Erano circa le nove, vero? Sì, sei tornato alle nove Mi è sembrato di aver visto la macchina di Orste In una stradina laterale Beh, non ne sono proprio sicuro Potrei anche sbagliare Al buio non si distingueva bene Ma ricordo che ho pensato Helen deve essere già a casa Immagino Che la cosa vi interesse Sì, sì Certamente È tutto questo per una ragazza È una cosa incredibile Proprio tu dici così Mi sembra che esageri Gli impulsi e le emozioni ai quali si cede senza freni Sono cose che hanno toccato anche te un tempo, credo Ma io non ho mai ucciso nessuno E non l'hai neppure pensato Neanche una volta, amico mio Perché stai così impalato? Guarda come è ridotto Sembra una confessione vivente Sono quasi 48 ore che non dorme E io sono a terra quanto lui Allora? Dove vado? Per fare il caffè? La cucina è ancora al solito posto Beh, va a prepararlo tu Non capisco perché tu non stia ferma Perché sono agitata, no? Io mi domando perché devo trovarmi sempre in mezzo ai guai E mai che tu mi aiuti Quando mi interrogeranno cosa dovrò dire? Questo mi sembra di avertelo già detto Va bene, ero qui Ma da che ora in poi? Sei arrivata alle sette Siamo rimasti insieme fino a tardi D'accordo Horst? Ci vuole ancora tanto? Tutto questo per quella ragazza Non ricordo più quando è che l'ho vista Ricordo solo che indossava una specie di tuta sportiva Fa parte di qualche squadra? Ah, sì L'ho vista una volta giocare a pallacanestro nella tua scuola Tu avresti dovuto fargli capire per tempo Che le donne non vanno prese seriamente A quanto pare non sei stato un buon esempio Non parliamo di esempi Visto che proprio tu gliene hai dati di belli Sei un vigliaco Chi può rimproverarmi Di non aver fatto il mio dovere di madre Non ho mai mancato in niente verso il mio figlio Non è il momento di discuterne Pensiamo invece al colloquio che ci aspetta Dignati allora di riassumere quello che dovrò dire Ti ho ripetuto cento volte che ieri sera alle sette tu sei venuta qui Ma questo era già stabilito E ora prova a dirlo tu Ieri alle sette sono venuta qui Ecco E a che ora me ne sono andata? A mezzanotte Fin qui siamo d'accordo Non pretendere più di questo però Ho fatto sempre quello che ho potuto per lui Ma un po' a vedere se l'acqua bolle Aspettavi qualcuno? No Sarà forse la polizia Che vuoi che ti dica? Allora va ad aprire? Richard Allora Dalle sette a mezzanotte siamo stati Ma se l'abbiamo ripetuto fino alla noia Spero di non confondermi Ma va ad aprire Sei troppo pallido Horst Almeno bevi qualcosa Non puoi farti vedere così Si accomodino pure I signori Derrick e Klein Mia moglie Buongiorno Anzi la mia ex moglie per la precisione Sono due funzionari di polizia E stanno indagando sulla morte di Mario Prego si accomodino Grazie Quello è mio figlio Buongiorno Buongiorno Lei è agente assicurativo signor Wigman Sì Quando comincia il suo orario di ufficio al mattino? Alle nove Stamattina abbiamo telefonato qui verso le dieci E lei c'era ancora Come mai? Sì ma io non devo andare alle nove in punto Come tutti gli altri Non succede niente se arrivo più tardi Lei è andato in ufficio più tardi oggi? Sì Come mai? Beh senza nessun motivo particolare Prego si accomodi Grazie E poi c'è stato in ufficio oggi Sì Quanto dura più o meno il suo orario? Fino alle cinque Sono le tre E lei è di nuovo a casa Come mai? Scusi perché mi fa tutte queste domande? Questo è un giorno speciale per lei forse? Non vedo perché dovrebbe essere speciale Forse Forse perché oggi è stato ucciso l'amico di suo figlio No Cioè Sì In un certo senso sì Io però stamattina non lo sapevo ancora No io A lunedì di solito sbrigo un po' di lavoro a casa Dove tengo alcuni incartamenti che devo esaminare con più attenzione Ecco perché era ancora qui quando lei ha telefonato Parliamo un po' di ieri sera La prego Lei ho già detto tutto quello che so Suo figlio era qui Da quando fino a quando? Qual è l'orario che le interessa? Dalle otto alle dieci di sera esattamente Allora eravamo qui Sì in questa stanza Mio figlio, mia moglie ed io Anche lei signora? L'ha appena detto lui mi pare Loro sono divorziati? Sì Da un anno circa Lei però non abita qui? No Che significa però? Sera era qui invece Sì sono stata qui dalle sette a mezzanotte Va a vedere se è pronto il caffè Sì Loro vogliono bere qualcosa? No grazie Come mai è stata qui ieri sera? Io vengo qui di tanto in tanto per vedere mio figlio Penso che non ci sia niente di strano no? No no E il ragazzo è stato qui tutto il tempo Non l'ho forse detto proprio ora? È quello che ho detto mi sembra E non è mai uscito di casa Nemmeno per poco Non capisco queste domande Sono venuta alle sette E me ne sono andata a mezzanotte E mio figlio era presente Ah ecco il mio caffè Grazie caro Perché non ti siedi? Suo figlio è stato visto ieri sera verso le nove Davanti alla casa di Helen Königer Signora Wigman Ma questo non è possibile Chi ha detto di averlo visto? Il signor Königer è tornato a casa ieri sera verso le nove E ha visto la macchina di suo figlio Ha visto la macchina di mio figlio? Questo non è di certo la stessa cosa Lui ha visto ferma lì un'automobile Mio figlio ha una Volkswagen Il signor Königer ha visto una Volkswagen, vero? E che cosa ha fatto dopo? Si è avvicinato e ha salutato mio figlio forse? La prego di rispondere a questa domanda No, non l'ha fatto Ah non l'ha fatto Ha visto una macchina come tante altre Ha pensato questa è la macchina di Wigman Si, proprio così Ha detto di aver pensato che quella fosse la macchina di suo figlio Però lei ha detto che era stato visto Horst Le sembra giusto? Lo può fare? No Ha ragione lei, mi scusi Adesso comunque mi faccia parlare con suo figlio Horst Tu ieri sera eri fermo davanti alla casa di Helen Königer, non è vero? Perché chiede al ragazzo? Non crede forse alla mia testimonianza Le ho già detto, mi sembra che il ragazzo era qui E anche mia moglie glielo ha confermato L'ho capito Però adesso faccia rispondere lui Rispondi No, non ero davanti alla casa di Helen Ieri sera ero qui Non sei stato ad aspettare Helen? No Helen è la tua amica, vero? Si Tu ami Helen Cioè la vostra è più che un'amicizia Tra giovani, non è vero Horst? Che cosa vuole che le risponda? A quell'età certi rapporti comprendono amore, amicizia, un mucchio di cose Lei perché drammatizza questo fatto? Secondo te com'era il suo rapporto con Helen? Che vuoi che ne sappia io? Ho l'impressione che l'ispettore voglia trasformare questa amicizia in una sorta d'amore morboso Si Credo che suo figlio soffrisse di gelosia Hai visto che avevo ragione? Ci costruisce un romanzo d'appendice La gelosia del povero ragazzo abbandonato dall'amata in una triste domenica d'autunno Lei la vede così, vero? Quasi È un errore, se ne convincerà presto Sei mai stato geloso di qualcuno? No Glielo chiedo anche lei Ne gelosia ne capisco qualcosa Ricordo certi brutti momenti, ti prego di scusarmi cara Volevo soltanto dire che non sono insensibile Ma questo non c'entra affatto Voglio dire semplicemente che ne conosco bene i sintomi E che non li ho notati in mio figlio in questi ultimi tempi O forse la ragazza ti ha fatto perdere la ragione con il suo comportamento No E allora la sua supposizione è assolutamente errata E poi come le ho detto mio figlio ieri sera era a casa con noi Cosa che lei dovrà sottoscrivere Certo che lo farò Prepari pure il suo verbale Vuole scriverlo a macchina? No Lei rimarrà a casa oggi Se lei lo desidera Tu che cosa fai? Vorrei mangiare qualcosa perché poi ho un appuntamento Ma se vuoi puoi mangiare qui Apri il frigorifero senza tanti complimenti Gran bella famiglia Quelli stanno bleffando La signora Wigman è tornata a casa per dare una mano al marito Questo ci complicherà le cose Il movente sarebbe la gelosia Padre e madre gli forniscono un alibi difficile da smontare Ce ne siamo liberati E' andato tutto liscio mi pare Liscio? Se ti sembra liscio Ne siamo usciti per il... Che dici questo? Ci hanno provato Hanno provato a farci crollare Ce l'hanno messa tutta Ma non ci sono riusciti Tanto ritorneranno Ti dico che il peggio è passato Cerca di calmarti Soltanto che tu eri troppo silenzioso Horst avresti dovuto reagire Ribellarti Non ascoltare passivamente l'accusa che ti veniva rivolta Ma lascialo in pace Non tutti hanno la lingua sciolta quanto te In simili situazioni Quando comincia il suo radio d'ufficio al mattino Mecca male Si vede che è abituato a fare domande a sorpresa Dobbiamo stare attenti E' uno che sa molto bene il fatto suo La gelosia Questa è una parola pericolosa Come mai hai detto che tu ne capisci qualcosa? Non sei mai stato geloso tu? Ti sembra che sia il caso di discuterne adesso? Mi piacerebbe saperlo Perché? Non so Credo che ne sarei contenta ancora adesso Mi hai sempre umiliata con la tua indifferenza Quei due Credi che si faranno ancora vivi? Un verbale dovranno pur farlo Io però non lo firmo Sarebbe un'accusa lampante verso tuo figlio Vai in cucina e prepara qualche panino Perché anch'io ho fame È andata bene Orste Mi puoi credere Ne sono convintissimo Nel mio lavoro ho imparato molte cose Soprattutto a capire Quello che non diceva la controparte Ecco perché ho capito al volo Che quel tale a poche cartucce Non sparerà a molti colpi Ce la caveremo Se non perderemo il controllo dei nervi Tu non lo perderai, vero? No, papà Tua madre invece lo perde facilmente Spesso ha reazioni imprevedibili La preoccupa la firma del verbale Ma alla fine credo che si deciderà A non rovinare per sempre il suo marito È suo figlio Sì, è per questo E ho stabilito che la domenica L'avrei passata da sola con Mario Vede, Orste mi era molto amico E gli volevo molto bene anch'io Però, come dire Mi tormentava Era sempre geloso di tutto e di tutti Ecco perché Anche di Mario? No, finora no perché Perché finora? Che cosa è cambiato? Come le ho detto Ieri era la prima volta che uscivo Sola con Mario Scusate se mi intrometto Io le dicevo sempre Orste mi sembra un po' assillante Stava più con noi che a casa di suo padre Una volta ho detto anche a mia moglie Orste ha proprio perso la testa per Evan Chi si innamora a quell'età la testa la perde sempre O quasi sempre Perde la testa? Già La sua sensazione dunque era che Orste Wigmann nutrisse un sentimento eccessivo verso sua figlia Sì Sì E me ne sono preoccupato Ha dato sempre molte manifestazioni di gelosia Oh sì, molte E non si è mai avventato contro qualcuno? Non arrivava mai a questo Reagiva sempre disperandosi tremendamente ma Da questo uccidere con un coltello? Mario non è stato colpito con un coltello È stato colpito con qualcosa di diverso Abbiamo avuto oggi il referto autoptico Si tratta di un cacciavite, credo Un cacciavite? Mario ne aveva sempre uno in macchina Perché a volte lo sportello non si apriva Abbiamo cercato nella macchina Ma non abbiamo trovato nessun cacciavite Lei è in grado di descrivercelo col cacciavite? Sì, non è difficile Credi che quelli torneranno davvero? Così hanno detto stamattina Va a prendere un portacenere per tua madre Quanto tempo impiegheranno per scrivere il verbale? Io lo butterei giù in un paio di minuti Ma quelli no, vogliono prendere tempo Non se ne avvantaggeranno Evidentemente stanno escogitando qualche loro trucco Ma noi siamo al sicuro Vuoi un altro caffè? No, voglio qualcosa di forte Non credo che sia il caso Dovrai controllarti scrupolosamente Tu mi hai sempre ritenuta un incosciente Non cercare di litigare adesso So bene come sei quando bevi Come sono? Avanti dillo Senza alcun freno Non essere ridicolo Perché i sentimenti ti fanno perdere il controllo Sentimenti io? Li hai anche tu naturalmente Ma non li tieni sotto controllo Come lui che non si sforza neanche di giustarci Lascialo stare Lo lascio stare, sì Ma vorrei che si aiutasse anche lui Tua madre ha voglia di bere un cognac Dagliene poco Grazie, sei molto generoso Hai fatto le ipotesi di ogni eventuale complicazione? Sì, le ho fatte La cosa non ha nessun punto debole L'unico potresti essere tu Continua così se vuoi che me ne vada Sei sempre lo stesso Dici ancora le cose che fanno venire voglia di piantarti in asso Vuoi dire che ti ho fatto scappare io? Sì, mi hai costretta a reagire al tuo assurdo comportamento Hai fatto sempre errori Cerca di non fare l'ultimo Va ad aprire tu Non devono sospettare che ti vogliamo nascondere Tu intanto sparecchia Ah, siete voi Buongiorno Buongiorno Abbiamo parlato ancora una volta con Ellen Koeninger e così Ma la ragazza non era coinvolta nel fatto Sì, però lei dice di essere stata molto amica di suo figlio Ma non capisco perché non possono essere stati... Sì, sì, sì Ma sembra che lui ne fosse morbosamente geloso Ah, ho capito Diventate il vostro chiodo fisso Scusi, signor Wigman Sì, sì, lei sta per dirmi che rispondo sempre al posto di mio figlio Horst Quando Ellen ti ha detto Che non avrebbe potuto passare la domenica con te Perché doveva andare a trovare sua zia Tu non sei stato subito diffidente? Eri convinto che ti stesse dicendo la verità? No Perché no? Ha detto di no, è chiaro Tu lo hai preso quindi per un pretesto, non è vero? Sì, io... Io non l'ho creduto affatto Eri infelice, disperato, inferocito, è questo che vogliono farti dire Voglio che mi risponda il suo ragazzo Ma lei non fa che tendergli i tranelli Perché non intervieni? Te ne accorgi anche tu, no? Sì, me ne sono accorta Noi vorremmo rimanere soli con il ragazzo Se no lo porto nel mio ufficio Va bene, fate pure Andiamo di là Vieni Ti sembra che vada liscio? No Ci metteranno dentro tutti quanti Vieni Sediamoci, non stiamo in piedi Ci vuoi parlare sinceramente adesso? Che cosa è successo? E come è successo? Siamo convinti che sia stato tu ad ucciderlo Ieri sera sei stato ad aspettare davanti alla casa di Helen Per vedere con chi lei aveva passato la domenica E quando Helen è arrivata con Mario Che tu fino ad allora avevi creduto tuo amico Hai perso la testa completamente Hai aspettato che Helen entrasse in casa E sei andato ad affrontare Mario Hai avuto una lite con lui E lo hai ucciso Con questo cacciavite No 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 Non sono stato io Torturano il nostro ragazzo Non possiamo permetterlo Non fare il testardo Raccontaci la verità Basta Io protesto energicamente Quello che state facendo con questo ragazzo è assolutamente illegale È un comportamento E questo Cacciavite come mai è qui Dove Dove è stato trovato Che cosa ha di strano questo cacciavite? Su coraggio risponda Cos'ha di strano questo cacciavite? Lo ha già visto? Io non so a che cosa alluda Non faccia il finto tonto Sa quanto me che questa è l'arma usata dall'omicidio Lei sta blefando Il delitto è stato commesso con questo cacciavite E lei lo ha riconosciuto Questo conferma i miei sospetti su di lei Ma che dice? Il cacciavite era nella macchina di quel ragazzo Lei così se lo è trovato a portata di mano E poiché anche lei è impulsivo litigando con lui Gliel'ha vibrato contro Lei doveva essere salito su quell'auto Chissà per quale motivo Lei è pazzo Lei poi si è messo a posto di guida E ha portato il morto davanti al Pinocchio Questo glielo suggerisce la sua follia Lei è il colpevole Il suo ragazzo non ha tanto sangue Io non le permetto di urlarlo Il sedile di guida era spostato indietro Come per una persona molto alta Lei ha dimenticato solamente di rimetterlo a posto Un grandissimo errore Glielo dimostro Andiamo a controllare Questi giochetti non mi diverto La farò sedere al posto di guida E siccome la sua statura è fuori dal comune Ne trarremo insieme le debite e conclusioni Vieni anche tu con noi No Mio padre è innocente L'ho ammazzato io Sei un vero idiota Ti sei fatto mettere nel sacco Ora stia zitto per favore Ha parlato anche troppo Questo povero ragazzo Fa più pena a me che a voi due Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.